Un prestigioso riconoscimento da parte della Regione Lombardia è giunto nei giorni scorsi all'amministrazione comunale di Gorno. Il centro della Val del Riso ha visto così premiate le iniziative di recupero e di valorizzazione della cultura mineraria che ha caratterizzato la storia della comunità. Avere questa certificazione di Ecomuseo non significa assolutamente avere dei benefici di tipo economico, significa che la Regione Lombardia vuol riconoscere tutto il lavoro fatto, avere prodotto come abbiamo prodotto noi sul nostro territorio delle documentazioni, dei libri, abbiamo realizzato un teatro per ricordare il lavoro delle migrazioni, il lavoro delle miniere, abbiamo realizzato un gemellaggio, abbiamo fatto tutta una serie di operazioni, e anche queste operazioni la Regione Lombardia le ha accettate dicendo che noi possiamo fregiarsi di questo titolo di Ecomuseo. È un punto sicuramente non d'arrivo ma è un punto di partenza per noi e da qui dovremo partire per sviluppare un turismo, diciamo, chiamiamolo sostenibile per le nostre aree e per le nostre zone. Fondamentalmente il titolo del museo dice il viaggio dello zinco tra alpeggio e miniere eccetera, per cui, come lo dice la parola stessa di Ecomuseo, non è una cosa statica, non è un qualcosa dove uno entra e vede delle esposizioni, ma è coinvolto il territorio, le persone del territorio e le persone che abitano un territorio e che lo vivono tutti i giorni.